Un aereo si è spezzato uscendo di pista durante l'atterraggio all'aeroporto Sabia Goshen di Istanbul. Secondo le informazioni riferite dai media locali, l'aeropasseggeri di Pegasus Airlines, che aveva effettuato il volo da Smirne a Istanbul, non è riuscito a fermarsi sulla pista e si è schiantato sulle barriere di una strada nei pressi dello scalo. A bordo sarebbe anche scoppiato un incendio. Il traffico aereo nell'aeroporto è stato chiuso. Secondo il Ministero dei Trasporti turco c'erano 177 passeggeri a bordo. Al momento non ha riferito di morti, ma ci sarebbero feriti.